Ciao ragazzi, io sono Martina, My Vision Beauty e oggi siamo qui per un Get Ready With Me chiacchiericcio quindi un Get Ready With Me, ovvero mi trucco con voi e parlo di un sacco di topics oggi parleremo di come è andato il mio 2017, come è stato, piccolo spoiler, è stato molto bello e vi parlerò della mia esperienza con i Mixed Face Awards, con Instagram in generale, con il mondo dei beauty vlogger e vi parlerò anche di quello che voglio fare nel 2018, quindi sarà un po' un sguardo al passato e sguardo al futuro e alla fine, non so perché, sono diventata molto filosofica e ho detto va bene il passato, va bene il futuro ma dobbiamo concentrarci sul presente quindi questo sarà il look che realizzerò in questo video, me l'avete chiesto, volevate un tutorial e il look era questo qua, volevate un tutorial e quindi ho pensato perché no fare un Get Ready With Me con lo stesso look, così appunto potete capire come l'ho realizzato ho utilizzato moltissimi prodotti che mi piacciono tantissimo tra cui quelli appunto dei preferiti del 2017 e quindi vi lascio al Get Ready With Me, spero tanto che vi possa piacere se vi piace il video lasciate un mi piace e magari iscrivetevi al canale perché siamo vicinissimi ai 5000 e ora passiamo al Get Ready With Me perché sarà un video molto lungo ok, quindi questa è la mia bare face, ho fatto solo le sopracciglia sono piena di capelli di parrucca ovunque oggi come avevo detto nell'intro andremo a ricreare questo make up che ho postato su Instagram e che avevo nel mio ultimo video sulle parrucche, non so quindi direi di cominciare subito con il make up occhi oggi volevo fare appunto questo chit chat Get Ready With Me e parlare anche un po' di varie cose, delle varie cose che sono successe nel 2017 e insomma, voglio parlare un po' di come è andato il 2017 per me devo premettere come cosa che alla fine del 2016 avevo già iniziato a fare un po' di queste cose di make up su Instagram nel novembre del 2016 NYX Professional Makeup aveva invitato me e Makeup by Blue, la mia amica Lara e un sacco di altre persone a questo evento incubator in pratica che era un evento, il mio primo evento di make up quindi è stato davvero fantastico e super strano vado ad utilizzare questa palette qui di Color Rain che sto adorando alla follia e vado ad utilizzare Hair e poi Princess e questo evento di make up era appunto, si chiamava Incubator perché era per dare possibilità a persone con pochi follower che avevano appena iniziato su Instagram, YouTube eccetera eccetera e è stato molto carino il mio primo evento in cui ho appunto conosciuto la famiglia NYX Professional Makeup quindi è stato un po' di introduzione a tutto questo mondo beauty e questo mondo di Instagram e da lì poi nel 2017 sono successe un sacco di cose ho iniziato appunto la pagina l'avevo iniziata già prima mi sembra nel 2015 era l'agosto del 2015? non mi ricordo comunque dalla fine del 2016 in poi sono successe moltissime cose e molte di quelle soprattutto con NYX Professional Makeup che ha dato davvero un sacco di spazio a noi piccoli beauty blogger e beauty blogger nel giro di un anno è cambiato moltissimo alla fine del 2016 avevo 2000 follower invece alla fine del 2017 17.000 quindi sono cambiate un sacco di cose assolutamente meglio e grazie a NYX Professional Makeup e poi i NYX Face Awards li ho anche vinti cosa che non me lo sarei mai aspettato è quello proprio oh mio dio non so neanche da dove cominciare sono proprio ancora in quella fase nonostante siano passati molti mesi in cui non mi capacito ancora di quello che è successo sinceramente non so bene come sia successo però è successo e appunto ho partecipato a NYX Face Awards italiani la seconda edizione la prima edizione non ho partecipato perché dovevo fare la maturità e quindi non mi sembrava il caso avere due stress del genere insieme Gianluca invece ce l'ha fatta non so bene come abbia fatto io fare maturità e NYX Face Awards insieme proprio no in più non ero pronta c'è da dire anche quello ai tempi appunto del prima edizione di NYX Face Awards quindi ho aspettato e ho partecipato l'anno dopo ho partecipato con un video che è piaciuto moltissimo e devo dire che piccolo segreto non avevo idea di cosa fare non avevo un progetto in mente particolare ho creato qualcosa così un po' all'ultimo anche perché non pensavo che i tempi fossero così stretti quindi vi consiglio se avete intenzione di partecipare a NYX Face Awards di quest'anno di pensarci subito perché davvero io sono stata un po' con i tempi stretti non so bene come mi è venuta questa idea di questo make up ispirato alla primavera anche perché più o meno il periodo era quello della primavera quindi vado ad utilizzare Duchess con questo pennello Jessup 231 e vado ad utilizzarlo nella piega il fatto è che volevo fare due trucchi diversi per poter far vedere un po' le mie due non dico personalità ma le mie due visioni del make up ovviamente il trucco che mi è piaciuto di più è stato quello del realistico di tutti i vari fiori sul corpo quello mi è piaciuto un sacco ci ho messo molto per realizzarlo ma quella specie di body painting è una delle tecniche di make up che mi piace molto nonostante appunto non sia molto utile nella vita reale però mi piace molto il body painting mi sono ispirata un sacco a Jordan Hans e poi vi dirò dopo altre cose e quindi quello è stato il mio make up preferito l'altro invece era un pochino più weird pieno di colori un pochino più astratto che doveva essere appunto la rivale della dell'altra visione della primavera quindi appunto queste due nature prima ho fatto i trucchi e dopo vedendo i trucchi ho capito più o meno che storia volevo dare quindi insomma non sono stata esattamente molto organizzata per niente io non sono mai una mamma mia cosa sto facendo non sono mai una persona super organizzata vado sempre un po' all'ultimo e alla fine è uscito bene quindi tutto bene quel che finisce bene ci sono state le varie sfide già passare nei top 20 è stato bellissimo ricevere il super pacchetto gigante è stato proprio wow adesso sto andando a ripulire il cut crease con il tart shape tape e poi è tutto è tutto stato un susseguirsi quindi dopo la prima sfida la seconda eccetera eccetera e e e che non significa sono arrivata alla finale quindi io ero entrata in questa competizione senza avere diciamo l'idea di vincere io non sono mai stata una persona troppo convinta e piena di autostima quindi insomma ho iniziato questa competizione un po' dandovi dei traguardi piano piano cioè passiamo questa sfida poi vediamo come va non ho iniziato la competizione dicendo devo vincere nonostante provavo comunque a dare il meglio di me ovviamente nei limiti del possibile nei limiti di quello che sapevo fare di tutta la mia attrezzatura e alla finale ero comunque molto in ansia nonostante fino all'ultimo secondo mi dicevo no tanto non vinco io cioè tutti i miei avversari io li adoro un sacco mi sono piaciuti tutti i loro lavori dal primo all'ultimo e secondo me la decisione era davvero davvero difficile e non avrei mai mai immaginato di poter essere la decisione di finale appunto la vincitrice dei Knicks Face Awards del 2017 sinceramente era una cosa che manco mi era passata nella testa ma la cosa che vi posso assicurare è che se non avessi vinto non avrei partecipato l'anno prossimo sicuramente perché era proprio stato uno stress incredibile prima ancora della fine proprio nella mia testa ho pensato se non vinco non importa è stato bello questo percorso quello che è stato fino a lì andare in finale salire su un palco che probabilmente avrò camminato come un tirosauro perché io non so camminare sui tacchi avevo dei tacchi molto molto alti però è stata molto bella come esperienza andiamo adesso ad applicare allora io ho utilizzato questa palette qui che è la mini masquerade palette di Juvia's Place qualcuno mi aveva chiesto su Instagram come mi trovo purtroppo non sono ancora riuscita a testare questa palette molto di solito vado a prendere un po' delle shades per completare i trucchi quelle sotto le ho utilizzate per un trucco mi sono piaciute molto perché appunto sono tutte naturali quelle sopra invece sono quasi tutte shimmer e quindi di solito le uso proprio come accent shades da mettere dopo infatti adesso vorrei utilizzare Zola mi sa che utilizzerò questo al posto dell'ombretto di Juvia's Place uno perché se volete ricreare questo trucco potete comprare Pupa nei negozi e quindi è più comodo e due perché appunto non ha senso utilizzare una palette per un solo ombretto comunque potete usare un qualsiasi ombretto azzurro che avete a casa e sto utilizzando questo pennello di NYX Professional Makeup del set metal che è molto buono molto appuntito ho avuto un sacco di esperienze dopo NYX Space Awards e sono andata a Los Angeles che è tipo il sogno della mia vita praticamente sinceramente non pensavo di poter mai andare a Los Angeles così giovane diciamo a Los Angeles è stata un'esperienza fantastica i ombretti funzionano molto meglio oh perfetto molto meglio con le dita però in questo caso ho bisogno di precisione quindi devo usare un pennello comunque a Los Angeles è stato bellissimo un'esperienza fantastica sono stata lì una settimana in realtà avevo filmato anche un vlog solo che poi ho perso più o meno la metà delle riprese che avevo fatto le prime riprese quindi ho ancora qualcosa avevo in mente di pubblicarlo tipo come throwback ho conosciuto più che altro visto perché ero molto molto spaventata comunque non vi dico la mia ansia sono stata male più o meno tutti i giorni sia per l'ansia sia un po' per il jet lag eccetera eccetera e la sera poi della finale ho conosciuto ho incontrato un po' di persone che conoscevo su Instagram poi ho incontrato Giarda Nance purtroppo non ho fatto una foto perché era tipo un po' nel momento fangirling quindi non riuscivo neanche a pensare di poter fare una foto e sono riuscita a fermarla a una delle poche persone con cui sono riuscita a parlare in mia spontanea volontà perché lei è stata proprio una delle mie principali espirazioni e senza lei probabilmente non avrei fatto il primo video non avrei avuto tutte quelle conoscenze su body painting su come creare le shadows gli highlights e tutte quelle cose lì grazie ai suoi tutorial sono riuscita appunto a imparare qualcosa di body painting cosa che a scuola non ho affatto per niente però vabbè questo sarà un altro discorso ho visto un sacco di influencer ho visto Mikey ho visto Kenny Johnson ho visto e parlato con Sandra Deluxe che io adoro con I Love Sarah E con cui ho fatto una foto cioè I Love Sarah E ha fatto una foto con me ha detto che le piaceva molto come era truccata e io tipo oh mio dio quanto sei carina poi è troppo carina perché è piccolina io sono abbastanza alta quindi lei è piccolina carina stra simpatica molto molto gentile ho visto anche Nikita Dragon che è tipo so flawless comunque è stato molto molto bello questo ombretto qui mi piace molto ha un effetto molto bello sono riuscita a farlo funzionare anche con il pen ero quindi molto buono e non vi ho detto ma era il numero 04 molto bello vado a utilizzare un pochino solo un pochino del di Zola di Juvia's Place ovviamente potete utilizzare un ombretto shimmer azzurro che avete a casa già non è importante che sia questo così riesco un po' a sfumarlo qua alla fine allora dopo Los Angeles che è stata appunto un'esperienza fantastica che tra l'altro ho potuto condividere con Gianluca ci siamo conosciuti meglio siamo andati in giro a fare foto ogni volta che vedevamo una location bella eravamo tipo oh qui sì foto poi a me piace un sacco fare le foto agli altri piuttosto che farvele fare perché non lo so ho una faccia che non è proprio proprio fotogenica quindi se mi faccio le foto da sola ok riesco a beccare gli angoli giusti eccetera e vedo cosa sto facendo quando mi fanno le foto gli altri sembro un po' un criceto impagliato ma non importa comunque ho fatto un sacco di foto a Gianluca Clementina è stato stracarino e ho riscoperto un po' la mia vena artistica per le foto infatti vorrei che questa passione nel 2018 diventasse un po' più realizzabile diciamo magari comprare un po' di cose per migliorare le mie foto magari fare dei progetti fotografici non lo so allora devo utilizzare dei pigmenti per dare quell'effetto un po' frosty che c'era sulla palpebra adesso abbiamo questo azzurro che è molto intenso un po' frosty ma noi lo vogliamo più frosty super frosty un po' questo make up appunto invernale mintery avendo questo azzurro molto forte dei glitter bomb vado ad utilizzare solamente diamond bisogna solamente farlo uscire e non so bene quando arriverà quindi questo pigmento qui vado ad applicarlo sulla palpebra e poi passiamo all'eyeliner che è la parte un po' carina quindi andiamo ad applicare quello poi vado ad utilizzare crown mi sembra di aver utilizzato crown qui nella parte esterna per andare a suomarlo un pochino con il marrone quindi vado a utilizzare crown questa palette di color rain mi sta piacendo davvero tantissimo la adoro come vedete così vado un po' a sfumare per la tecnica di questo smoky liner vado ad utilizzare il cake deck eyeliner che è un eyeliner di cui avevo già parlato con questo è un pennellino angolato questo che è di mulac per le sopracciglia vado ad iniziare a schicciare diciamo la mia wing liner quindi vado a spruzzare e questo mi dà proprio una polvere bagnata che come potete vedere è molto pigmentata proprio come un eyeliner in gel se avete paura di fare errori anche così potete utilizzare la polvere asciutta oh mio dio questo eyeliner sta diventando grande in pochi minuti SOS salvatemi vi prego vado a utilizzare il swing liner di The Balm mi piace molto questo eyeliner poi invece un ombretto nero un pochino più pigmentato è quello di questa palette qui una palette di Smashbox Cosmetics io vado ad utilizzare questo nero ok va bene basta vado ad utilizzare quindi questo nero qui vado a prendere questo nero perché è molto pigmentato e un po' più polveroso diciamo rispetto al cake death liner quindi mi dà la possibilità di sfumarlo meglio comunque tutto un applicare sfumare applicare sfumare sfumare tirare il prodotto applicare sfumare quindi ci vuole solo un po' di pratica dobbiamo risolvere questa situazione perché questa eyeliner non ci piace proprio questa è la soluzione prendiamo questo e andiamo a ripulire un po' abbiamo parlato delle cose belle del 2017 ma ora siamo nel 2018 cosa assurdo assurda non lo so il tempo sta passando davvero davvero molto in fretta ho utilizzato questo con la finta e è stranissimo cioè nel giro di due anni ci ritroveremo il 2020 e 20 e poi i 30 e i 40 no è troppo strano troppo strano non lo so mi sembra di essere nel futuro rimanendo nel passato spero davvero nel 2018 di poter rendere questo hobby diciamo un un lavoro di poter crescere su youtube siamo quasi a 5000 follower che è assolutamente crazy fantastico quindi se state vedendo questo video e non siete iscritti potete cliccare qua sotto per iscrivervi e se questo video non vi convince perché parlo troppo e sembro un po' noiosa ce ne sono altri magari più informativi che possono essere utili quindi vi consiglio di guardare anche quelli per esempio ho fatto un video per capodanno che mi è piaciuto molto e infatti utilizzerò quella tipologia di video anche per altri a capodanno ho fatto un video appunto tre look in uno e mi è piaciuto molto infatti probabilmente ne farò altri visto che ha avuto molto successo e era un video con trucchi appunto ispirati a capodanno ma ve lo metto qua sopra perché potete ancora vederlo se non l'avete visto adesso perché si può andare a fare una spesa con quei look almeno con il primo di sicuro ma con gli altri dipende da quanto siete weird e bold se l'avete visto sapete cosa intendo e quindi voglio fare più video così tutorial anche nonostante i tutorial siano un po' una tipologia di video difficile perché non a tutti piacciono e non tutti li guardano quindi cercherò di fare appunto dei tutorial magari tre in uno così sono più interessanti più informativi anche voglio fare un po' di serie di video anche dei video sulle parrucche come avete già visto ho iniziato con un video ma ne farò sicuramente altri e voglio fare un video sulle sopracciglia le soap brows me l'avete chiesto quindi probabilmente farò magari un video su come faccio le sopracciglia se siete interessati a un updated brow routine quindi dove magari posso fare diversi stili di sopracciglia in quello che avevo fatto prima avevo fatto le sopracciglia colorate quelle instagram e quelle soap e mi avete chiesto voi per le soap brows come funziona la tecnica delle saponette volevo trovare prima di questo video una saponetta trasparente in commercio da qualche parte magari da lì da qua di vuotà quei negozi lì insomma o magari anche UBS perché non sono riuscita a trovarle io ne ho una a casa però vorrei appunto trovarne una da potervi consigliare perché è un po' inutile dirvi appunto come le faccio ma poi non avere un prodotto da consigliarvi per poterlo comprare quindi quando troverò una soap bar appunto una saponetta con una base abbastanza trasparente potrò fare anche quel video poi voglio fare anche un video un'altra cosa che mi chiedete molto è riguardo ai pennelli quindi voglio fare anche un video così dove parlerò appunto magari una mini serie diciamo con i pennelli occhi poi i pennelli viso questo correttore che ho preso liquid camouflage di Catrice mi piace un sacco l'ho preso chiaro per mischiarlo allo shape quindi adesso ho utilizzato Revlon e questo qui è un po' chiaro il mix devo dire però vabbè nel primo mese di tutti gli anni c'è un po' questa atmosfera di sì possiamo farcela possiamo fare meglio che poi magari va un po' a scemare diciamo piano piano verso la fine dell'anno ma buona è un'atmosfera carina perché comunque siamo tutti molto motivati a fare del nostro meglio e quindi volevo appunto dirvi che quest'anno ci saranno moltissimi video devo impegnarmi ho pensato di fare una settimana due video la settimana dopo tre quindi così e magari ancora non ho una shadow quindi di video precisa comunque ho intenzione di pubblicare due o tre video alla settimana e quest'anno arriveremo a 10k anche qui su youtube ne sono certa moltissime di voi mi state scrivendo nei commenti perché non hai più follower se volete anche voi vedere questo canale crescere e quindi vedere questa community e vedere dei video migliori perché più crescerà il canale più voglio impegnarmi a fare dei video ancora più belli e quindi se vi va magari iscrivetevi condividete i video su facebook non lo so con le vostre amiche se c'è qualcosa che vi interessa ditemi che video vi piacerebbe vedere perché quello è molto utile così i video che faccio possono essere utili a voi in prima persona vado a utilizzare oggi un blush un po' diverso e è chiamato illuminating powder quindi pensavo appunto fosse un illuminante ha questo effetto qui appunto dei quattro triangolini ma ho visto nel video best of beauty di last relax che seguo molto mi piace mi piace molto tutto quello che fa e lei considerava proprio questo colore che è summer reflection e devo dire che non gli ho mai dato una chance a questi prodotti perché appunto c'è questa cosa dei prodotti meschiati in più se lo meschiate non è che viene un illuminante lei lo usa appunto come blush quindi vado a prendere un po' della parte pescata questa qui non sono ancora sicura che cosa ha finito di questo prodotto non mi sono ancora fatta un'idea devo ammetterlo no devo dire che oggi mi piace l'effetto dipende non lo so l'ho provato l'altro giorno e non ne ero ancora convinta però appunto ce l'avevo e quindi almeno vediamo com'è se mi piace vado ad applicare questo illuminante qui questo che è il numero 208 di Kiko Milano ed è un ombretto adoro questo illuminante è fantastico se volete appunto prendere un illuminante da Kiko questo è l'amore l'ho riscoperto e lo sto ma guarda no c'è adoro 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 spero appunto che questo 2018 possa essere fantastico e anche il vostro ecco una cosa per parlare un po' nei commenti scrivetemi un po' le vostre New Year's Resolutions quindi quello che volete fare nel 2018 o magari il momento migliore del 2017 ho utilizzato Princess e Duchess nella parte inferiore e adesso vado a prendere un po' del nero con il pennellino che ho utilizzato di Neve Cosmetics questi pennelli purtroppo non hanno nome spero anche quest'anno di poter collaborare con altri brand che siano collaborazioni fruttose e la far parte di qualche PR list americana non sarebbe male in realtà non ho bisogno di nulla mi sto trovando bene con al punto in cui sono adesso nonostante comunque vedendo le persone magari in America o altre persone anche qui in Italia che magari alla tua stessa età o poco di più o ancora meno hanno raggiunto più cose di te quella è una cosa molto molto difficile da accettare ma bisogna ricordarsi che si è tutti molto diversi quindi non bisogna andare a vedere appunto quello che hanno realizzato gli altri continuare a pensare oh mio Dio vorrei essere come lei vorrei avere appunto quella vita riuscire ad essere riuscita ad arrivare al punto in cui sei in una casa vivi da sola hai una macchina hai la possibilità di comprare delle attrezzature cioè tutte queste cose è difficile non farsele passare nella mente e e quando appunto si vedono persone che hanno successo è difficile non pensare oh mio Dio perché anch'io non sono riuscita a ottenere tutto questo perché non ho la sua vita è un po' controproducente perché l'unica cosa che possiamo fare è impegnarci in quello che stiamo facendo rispettare il nostro percorso e il tempo che ci vorrà comunque questo orologio che va avanti noi siamo qui e dobbiamo diciamo ottenere il meglio da quello che che abbiamo e da quello che facciamo secondo me cercare sempre di fare meglio impegnarsi davvero tanto e e se si hanno degli obiettivi riuscire appunto a piuttosto che lamentarsi e vedere che cosa fanno gli altri riuscire a diciamo utilizzare tutte le nostre energie sul nostro obiettivo per il nostro obiettivo e riuscire appunto poi a ottenerlo andrei ad applicare intanto che le ciglia finte si asciugano crown è bellissimo cioè l'ho appena sfiorato io adoro questa bolletta da follia vado ad applicarla nell'inner corner ok in realtà questo trucco è molto bello anche senza ciglia finte volendo è perché l'eyeliner comunque tira su molto l'occhio quindi devo ammettere che sta bene anche senza ma ovviamente le metterò e metterò queste qui le lashes sono le hollywood e le ho utilizzate appunto nel trucco originario un'ultima appunto motivation per l'anno nuovo per quest'anno per questo 2018 se state iniziando appunto con questo in quest'ambito dei beauty vlogger comunque di instagram prima cosa impegnatevi al massimo fate un sacco di ricerca quella è molto molto importante anche chiedendo alle altri ma anche andando a vedere appunto su internet su youtube che cosa vi serve cosa può aiutare il vostro il vostro setup magari per i video cose del genere è molto molto importante anche quello quindi la ricerca è assolutamente una delle prime cose che bisogna fare non arrendersi perché ci sono dei periodi in cui le cose magari non vanno sembra che instagram magari non funzioni più come prima in effetti è vero perché da quando hanno modificato l'algoritmo è molto più difficile crescere su instagram quindi è un po' frustrante a volte quello è vero però non abbandonare appunto questo percorso che si sta facendo secondo me è molto importante e basta pensare a tutte le volte in cui ho pensato basta non ce la faccio più è troppo difficile non riuscirò mai a farlo perché mi impegno così tanto per poi non ricevere nessun risultato perché sono cose che pensano tutti e le ho pensate io e se avessi mollato tutto mi sarei perso un sacco di cose se non avessi partecipato ai face awards non sarei andata a los angeles mai mai pensare basta mollo non ce la faccio bisogna sempre cercare di appunto andare avanti e continuare nonostante sia difficile nonostante possa volere un sacco di impegno e un sacco di tempo basta pensare a Niki Tutorials prima di diventare super famosa come lo è adesso ha messo video costantemente per sette anni sette anni di video in cui magari i primi cinque o i primi quattro non erano redditizi non erano un lavoro o non le davano la soddisfazione ma lei ha continuato e quindi secondo me è importante appunto non arrendersi è l'unica cosa che si può dire volevo utilizzare questa matita che ho preso ieri con gli sconti questa è Lolita di Kat Von D Everlasting Lip Liner era un trio queste matite sembrano molto buone perché sono molto burrosi ma poi si asciugano e non se ne vanno quindi dovrebbe essere buono per una matita labbra volevo andare utilizzare un butter gloss ce l'avevo nella borsa quindi perché non utilizzarlo nel look originale avevo utilizzato un ombretto un rosetto un po' più bold sia il numero 29 dei Sephora Cream Lipstein ho indossato questo io ho indossato anche il 29 e il 31 insieme e hanno creato appunto un mix vado adesso a utilizzare appunto questo butter gloss Creme Blu vediamo un po' vado adesso ad applicare lo Skinny Davia Makeup Setting Spray basta così perché non voglio tirarmi via tutto questo trucco subito e una tecnica importante che Mamma Nikki ci ha insegnato è quella di poi andare a sventolare qualcosa sopra per far asciugare più in fretta e rendere di solito mi sembra il trucco più fissato ok questo è il look finito oh mio dio non ci posso credere ce l'abbiamo fatta spero tanto che questo mi chiacchericcio vi sia piaciuto e fatemi sapere che altri video volete vedere ma ne ho davvero tantissimi in mente quindi se non avete suggerimenti non importa per questa settimana perché ho un sacco di cose in mente spero tanto che possano piacere e noi ci vediamo nel prossimo video non so se sarà il video di decluttering o se il video di decluttering sarà prima di questo in ogni caso buona giornata o buona serata rispetto a quando state guardando questo video e ci vediamo al prossimo che vediamo al prossimo video Grazie a tutti.